...un video e decide di piantarsi così, vabbè. Allora, ragazzi, la versione che andremo a utilizzare in questo tutorial di Shotcut è l'ultima, la 20.04. Io l'ho scaricata semplicemente dal sito. Se non ero, avevo fatto un video dedicato, ve lo metto qui nelle schede o comunque vi lascio sempre in descrizione il link del sito. È semplicissimo installarlo. Io ho preferito la versione AP Image, in modo tale che la Stry è già pronta all'uso. Allora, per prima cosa, appunto, andiamo su Apri File, importiamo il necessario, quindi andiamo a reperire una clip, per esempio questa, ok, e l'andiamo a spostare sull'elenco di riproduzione. Se non l'avete, visualizza elenco di riproduzione o CTRL più 4 da tastiera. Vado a importare il resto, quindi tutto quello che mi servirà per questo tutorial. Se volete selezionare più oggetti, ovviamente potete fare CTRL da tastiera, per esempio prendere schermata finale e il loghetto di Telegram. Per chi, per l'ennesima volta, mi chiede come lo realizzo anch'io per il mio canale, c'è il video dedicato a come realizzare un banner con Gimp. Ve lo lascio qui nelle schede e magari anche qui sotto in descrizione, se mi ricordo. Allora, trasciniamo il primo video nella timeline, in questo modo, assicuriamoci di essere all'inizio, ok, tasto destro qui, e andiamo ad aggiungere una nuova traccia video, oppure CTRL più da tastiera. Vado a mettere la mia immagine che voglio sovrapporre, quindi, al mio video, come vedete risulterà così. E come secondo passo, andiamo a fare di nuovo tasto destro, aggiungi traccia audio, non si vede, quindi vado ad allargare un attimino la visualizzazione, ok, così va più che bene. Io in genere metto il banner che entra con un effetto, prima praticamente invisibile, e poi si sposta, diciamo, al centro della mia clip. Per farlo, qui su Shotcut c'è la possibilità, io in genere edito i miei video anche nel live, perché comunque lo preferisco, però qui si può. Andiamo su filtri, selezioniamo l'immagine di Telegram, facciamo più per aggiungere un nuovo filtro, qui vi dà i favoriti. Però facciamo un ennesimo filtro su video e andiamo a scegliere dimensione e posizione, ok. Così facendo ci andrà a impostare il filtro per quanto riguarda appunto il bannerino di Telegram. Per fare l'effetto di animazione, quindi di ingresso, dobbiamo innanzitutto fare un click qui, usa il fotogramma chiave per questo parametro, ok. Così lui ci va ad aggiungere un pallino. Allora, spostiamo questo all'inizio del mio fotogramma, mettiamo qui come posizione meno 1920, questo perché questa immagine ha lo stesso formato del video. Ripeto, vedetevi il tutorial dedicato a come crearlo e capirete il perché. Qui sotto, come vedete, abbiamo fotogrammi chiave, timeline. Se io torno nella mia timeline, ho di nuovo il bannerino di Telegram. Tornando su fotogrammi, ho la possibilità di nuovo di vedere l'impostazione del fotogramma chiave. Non so perché fa così, però fa che sparisce e poi ritorna al momento in cui vado sul fotogramma chiave. Spostiamoci un po' qui, per esempio a questo livello, e andiamo a impostare un nuovo valore. Quindi mettiamo 365, dando invio, torniamo nella nostra visualizzazione. Ok, seleziono di nuovo il bannerino di Telegram, perfetto. Andiamo qui e vedete che il nuovo fotogramma appunto presenta una nuova posizione. È un pochettino buggato, come si suole dire, però funziona comunque sia, dico, ci si riesce a lavorare. Se vado in riproduzione, anche da qui, vedete l'effetto ovviamente con questo banner orrendo. Facciamo play e, come vedete, fa l'ingresso. Se voglio velocizzare questo effetto, basta che vado a spostare questo nodo il più vicino possibile al primo. Vi faccio vedere in anteprima. Come vedete è molto più rapido. Ovviamente più vicino lo mettete, più è, diciamo così, di scatto. Andiamo a posizionare il nostro cursore qui, in modo tale che spostandoci poi sulla timeline siamo nel punto preciso di ingresso. Andiamo su elenco riproduzione e io vado ad abbinarci l'effettino audio di ingresso. Quindi lo vado a trascinare qui, zoomiamo un pochettino con control e la rotella del mouse, in modo tale andiamo a zoomare. O volendo potevo zoomare anche da qui, però per praticità facciamo così. E qui entra in gioco il discorso dell'abilità dell'ancoraggio. Come vedete, con l'ancoraggio attivo si va a fermare nel punto preciso di dove è posizionato il cursore nella timeline. Andiamo a vedere l'effetto e magari vi metterò a schermo intero, così potete apprezzare meglio. Vabbè che l'avete visto all'inizio. Ecco, come vedete presenta appunto questo effettino di ingresso. Ovviamente questo ha la sua durata in termini di secondi, possiamo andarla a regolare tranquillamente da qui. Quindi come vedete mi dice che dura 7-10, io di solito lo faccio durare 10 secondi. Ok, andiamo a impostarlo così, 10 secondi. Ok, perfetto. E volendo da quest'angolo in alto a destra, trascinando con il sinistro verso sinistra, da destra verso sinistra, possiamo dare anche una dissolvenza. Io di solito su che nel live metto 10 secondi di dissolvenza, in modo tale che poi lo farà scomparire. Ora vi faccio vedere l'effetto molto velocemente. Poi io non do cose particolari. Ok, così scompare e via. Si toglie praticamente l'effetto anziché scomparire di botto. Che poi dico, volendo, ci può pure stare. Ve lo faccio vedere annullando questo effetto, che vi ricordo potete poi gestire da filtri. In modo tale che così scompare in automatico. Forse è pure meglio. Ok, poi di solito ovviamente vado a fare dettagli ascoltando il video. In questo caso non presenta audio. Però io di solito zoom all'interno appunto del mio contenuto per eliminare eventuali spazi o comunque rimuovere parti che ritengo tra virgolette superflue. Quindi vado a eliminare appunto punti morti dove magari sto zitto e guadagno spazio in questo modo. Per il resto vado a eseguire appunto eventuali aggiunte di clip come può essere importare un'altra clip. Quindi apri. Andiamo su registrazione. Prendiamo, non lo so, di nuovo la stessa clip qua dedicata a Mint. Quindi personalizzare Linux Mint. Diamo ok, la trascino qua nei miei file e vado appunto a eseguire per esempio un taglio qui. Quindi faccio S da tastiera selezionando la prima traccia, S. Faccio un salto qui, S di nuovo da tastiera. Elimino con canci da tastiera questa porzione di video. E magari decido di trascinare questa clip qui perché mi serve un pezzettino che mi vado a scegliere. Deve essere di questa durata, do S da tastiera per tagliare. Questo tasto destro rimuovi o canci sempre la tastiera selezionandolo. E questo lo mettiamo nel mezzo perché avevo la necessità di farvi vedere questa parte di video. Dopodiché si torna alla clip precedente. Dico questo possiamo gestirlo in autonomia. In qualsiasi montaggio possiamo decidere appunto che tagli eseguire. Come vedete qui per esempio, essendo che c'è l'audio, scorrendo da questo effetto che è un pochettino brutto. Da visualizza, cioè scusatemi da impostazioni, possiamo levare scorri audio. Quindi se io passo, finalmente sta zitto. Cioè è una cosa che a molti piace perché capiscono magari il punto dove stai a dire una parola e quindi lo vanno a sentire e tagliano in quel punto preciso. A me dà un po' fastidio quando scorro magari nel video per vedere i fotogrammi che faccia questo effetto. Però si può impostare tranquillamente in due secondi. Impostazione, scorri audio e otteniamo appunto che scorrendo senti la voce della clip. E niente, poi io vado a eseguire appunto un ultimo taglio che in genere vado a rimuovere la chiusura del programma di registrazione. In questo caso non c'è però facciamo finta che sia qui. Quindi seleziono questa traccia, faccio S da tastiera, vado a rimuovere questa porzione di clip e trascino la schermata finale dopo praticamente la fine del mio video. Decido che deve durare, come indicato da YouTube, 20 secondi. Quindi semplicemente facciamo tasto destro, proprietà. In questo caso, non so perché, il programma è un pochettino buggato, non mi fa gestire questa cosa. Però comunque sia trascinando. Allora 10. Attiviamo anche scorri mentre trascine così lui dà la possibilità. Zoomiamo un po' meno. Ok. Allora andiamo a 20 secondi. Ecco perché poi preferisco che del live, perché comunque sia un pochettino buggato. Almeno qui sul mio computer. Poi dico, non so da voi, allora zoomiamo meno. Ok. Deve durare 20 secondi precisi. Io lì faccio modifica e mi fa gestire il tutto. Qui non so perché non funziona, ma poco importa. Ok, lo imposto praticamente a 20 secondi precisi. Dopodiché qui sotto, da elenco di rivoluzione, ci vado a mettere l'effettino della chitarra, preciso all'inizio. In questo modo. Volendo posso anche mettere una dissolvenza in uscita alla fine del mio video e ottenere questo effetto. Ok, con sempre la possibilità di selezionare la clip, da filtri vi ricordo che vi fa vedere quelli attivi. Per esempio qui ho messo una dissolvenza audio in uscita perché così va a sfumare anche l'audio. E in automatico anche la dissolvenza video. Come vedete vi fa gestire i due parametri, possiamo anche rimuoverlo disattivandolo semplicemente. O facendo meno, vado a rimuovere il filtro che ho selezionato. Dico per comodità. Dopodiché vado su esporta video. Vado a salvarmi sempre un preset mio. Quindi vado a impostare qui 1920x1080, 16 noni. Rapporto proporzione appunto 16 noni. Frame, i fotogrammi 30. Progressivo, temporale, bilineare, lascio tutto com'è. Formato mp4. Codec lascio questi tranquillamente, non vado a modificare nulla. In audio anziché 384, 192 che è più che sufficiente. Il formato lo vado a lasciare in predefinito AAC. In altro non vado a toccare nulla. Dopodiché vado qui, faccio un più. Vado a metterci appunto 1920x1080. Ci scrivo anche YouTube, così me lo ricordo. Voi potete dare qualsiasi nome. Come vedete qui abbiamo i parametri che abbiamo impostato. Dando OK lo ritrovo qui. Quindi se vado a selezionare per esempio un altro formato che mi andrebbe a stravolgere il tutto. Quindi per esempio 720. Rapidamente qua imposto il mio profilo. E lui come vedete non imposta nulla. Non si capisce il motivo. Ma è buggato nel vero senso della parola. Perciò dico che è del live tutta la vita. Però per chi preferisce questo vi porto il contenuto anche qui. Allora appunto una volta impostati i parametri. Che a questo punto vi consiglio di controllare sempre ogni volta. Quindi qui abbiamo detto acc. Visto che è dei profili diciamo non ne tiene tanto conto. Qui vado a mettere appunto mp4. OK. I bitrate 192 per favore. 192 dove sei? L'hanno rapito. Allora qui abbiamo detto acc. C'è scusate codec dove è libreria. Eccolo x. OK. Qua va bene. In audio abbiamo detto 192. Video va benissimo così. E poi appunto faccio esporta file. Qui mi fa scegliere dove salvarlo. Va bene per esempio video. Mettiamo prova. OK. E faccio salva. E da qui appunto vediamo poi l'esportazione del nostro video. Tranquillamente posso fare anche interrompio questa attività per annullarla. Bene ragazzi. Per questo piccolo video diciamo l'introduzione a come editare un video con Shotcut 20.04. Penso che va bene così. Per qualsiasi dubbio vi aspetto nei commenti. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Grazie. 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 Grazie.